altro che continuità di prestazioni questa è sempre la solita juve la solita juve di allegri il solito schifo il solito pianto la solita noia la juve molle senza convinzione senza un'idea senza uno spunto che sembra stare lì ferma ad attendere l'avversario e basta neanche a ripartire a ripartire ad attendere l'avversario e basta quasi a consegnarsi rassegnata al nemico così è davvero dura così è davvero dura perché fai fatica anche a rimanere sveglio guardando una partita della juve atteggiamento rinunciatario atteggiamento molle rassegnato oltre ogni immaginazione e oltre ogni capacità di tolleranza adesso basta è davvero troppo sono stati due punti persi ma per l'atalanta a cui il pareggio per 00 sta stretto perché l'atalanta almeno ci ha provato sempre ha sempre cercato di far la partita e ha provato a vincerla fino all'ultimo la juventus ancora negli ultimi minuti col risultato inchiodato sullo 00 anziché provare a vincere ha provato tutto al più a non prenderle o comunque a congelare quel risultato lì insomma questa non è la juve non è la juve e non è più la juve ma non lo è più da un pezzo comunque gli unici due sufficienti sono mckenny si proprio lui ciccio mckenny perché comunque non fa danni e ci mette un minimo di buona volontà e bremer che gioca un'ottima partita al netto di qualche sbavatura in uscita ma comunque perdonabile in questo caso e poi bremer deve uscire per per i crampi ed entra rugani nel nel finale tutti gli altri sono insufficienti chiesa compreso che oggi prende 5 e mezzo e poi spiegatemi a cosa serve ken perché la juve tiene ancora lì ken imbarazzante indegno inutile offensivo irritante voto 4 ma potevo dargli anche di meno e miletti quando entrata ha fatto ridere come al solito gatti ha giocato un primo tempo discreto ma nel finale ne combina una che rischiava di costare cara anzi carissima alla juventus perché l'atalanta è andata vicinissima al gol del vantaggio a quel punto forse al gol vittoria e il citofono polacco fa un'ottima parata sulla punizione di muriel e poi l'ennesima baccata della sua della sua carriera su un tiro senza pretese da lontano proprio nel finale sulla cui ribattuta si avventa copmainers che inspiegabilmente però la spara in curva anzi nel cantiere che sta costruendo ricostruendo la curva del gevis stadium basta così allegri per prende 5 ma giusto perché strappa questo punto immeritatamente ma il vero problema di questa juve è rimane lui grazie a tutti 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 Grazie a tutti